Ben trovati ad un nuovo appuntamento con lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi andiamo alla scoperta del fantastico mondo degli immobili commerciali e lo facciamo con Armando Vitali, il fondatore e CEO di Aria C1. Armando, ben trovato. Grazie, grazie. Un piacere averti qui. Piacere mio, Gerardo, grazie di questo invito. Speravo un po' di tempo fa che prima o poi avessi l'occasione di partecipare a questo format perché mi è sempre piaciuto molto e ti faccio i complici. Grazie, 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 bene, bene. Grazie mille. Allora, l'altro modo quindi di fare immobiliare. Aria C1 da qual'idea nasce e magari ci racconti un po' di backstage, delle persone che hai coinvolto in questo progetto che destra una certa curiosità. Assolutamente sì. Diciamo che l'idea di creare un luogo dedicato a questo settore c'è sempre stata. Poi ci sono state una serie di contaminazioni esterne che comunque ho ricevuto durante il mio percorso. Io sono stato e sono tuttora un agente immobiliare del settore commerciale, ho avuto un ruolo sindacale in Commercio Roma, ho iniziato a fare formazione per FIMA, fino a quando poi ho deciso di provare a mettere a sistema questo progetto e di fondare un'accademia. Quindi la fase beta di Aria C1 si chiamava impresa, è nata due anni fa. In quell'occasione tu mi insegni che poi le contaminazioni vere e più potenti sono quelle che scaturiscono dall'unione delle anime e delle menti con altre persone. Quindi ho unito la mia esperienza con quella di due persone che nell'occasione dell'accademia ho conosciuto un pochino meglio, quindi sono i miei due co-founder. Pasquale Fuda, conosciutissimo nell'ambito immobiliare, esperto di Procter. Ciao Pasquale e Gianluca Lo Stimolo, un grande esperto di comunicazione, uno dei massimi esperti di personal branding in Italia. Ecco, quindi l'unione delle nostre rispettive contaminazioni ha portato poi alla creazione di questo hub a cui abbiamo dato il nome di Aria C1, peraltro suona bene, in realtà è nato da uno scherzo, cioè dopo sette mesi di prove quasi di frustrazione perché non riuscivamo a trovare o il nome giusto o quello libero, quasi per scherzo un giorno abbiamo detto vabbè chiamiamola Aria C1, ma sì, ma dai, ma ti pare? Abbiamo metabolizzato un secondo e abbiamo detto Aria C1, l'altro mondo dell'immobiliare è perfetto. Con Aria 51. Esatto, Aria 51, quindi ci sentiamo un po' gli extraterrestri di questo mondo, esatto. Allora, immobili commerciali, un mercato di nicchia ma con grandi potenzialità, ci dai qualche numero per capire quanto è scalabile questo business? Sì, e parto da un numero che di per sé non dice nulla, cioè parliamo comunque del 20% del mercato immobiliare, ma il riverbero che questo 20% ha su tutto l'intero sistema, non solo immobiliare, ma sistema paese, mi fa pensare al principio di Pareto, cioè dove il 20% in realtà poi influisce sull'80% dei risultati, ecco il 20% di questo mercato influisce sul restante 80%. Abbiamo circa ogni anno 23 miliardi di euro di fatturato, questo molti non lo sanno, ci sono circa 3 milioni di immobili che hanno un affaccio su strada in Italia ed è una particolarità tutta nostra, cioè è nettamente la più alta densità commerciale in Europa, è la nostra, con un'ulteriore particolarità il fenomeno delle locazioni commerciali, cioè su 3 milioni di immobili su strada l'80% è gestito da una locazione commerciale e una locazione commerciale mediamente genera tre volte il fatturato in termini di provvigioni, perché parliamo comunque ci rivolgiamo ad agenti immobiliari, rispetto ad una locazione residenziale. E solo il 2% degli agenti immobiliari italiani o delle agenzie opera specificamente in questo settore, ecco perché a noi piace chiamarlo, sulla base di questi pochissimi numeri che abbiamo dato, un vero che c'è uno blu di mercato. Ok, quindi agenti immobiliari, cosa manca secondo te all'agente immobiliare per lavorare con profitto in questo mercato? Allora potrei dire una cosa banale, potrei parlare di formazione, ma è un termine abusato, secondo me manca poco, non manca molto, manca informazione più che informazione, perché spesso si ha una percezione di questo mercato che possa essere difficile o in crisi, non è così e lo registrano, lo validano i numeri che ti ho fondamentalmente appena dato, perciò manca informazione, manca consapevolezza, manca quel pizzico di coraggio per uscire dalla resistenza al cambiamento ed entrare in un mercato che oggettivamente offre uno spazio in esplorato, perché siamo un po' tutti abbarbicati su quello che è il mercato residenziale che è l'oceano rosso e invece in quest'altro mondo dell'immobiliare un po' di informazione in più, un po' di coraggio in più nel dare un'occhiatina e in realtà poi i risultati, la voglia, anche il piacere di occuparsi di una locazione residenziale, di vedere un negozio aperto, di vedere in qualche modo il tessuto sociale che si ravviva anche in un pezzettino piccolo di marciapiede, unito a quelli che sono oggettivamente e mediamente dei guadagni maggiori, perché questi sono registrati, le locazioni commerciali rendono di più, le vendite immobiliari fondamentalmente nel settore commerciale rendono di più, ecco manca poco, solo l'interesse e la curiosità di andare oltre e vedere cosa c'è nell'altro mondo dell'immobiliare. Prima parlavi di tanti immobili affacciati su strada, quindi parliamo di commercio, quindi il tradizionale a cui siamo abituati, il commercio digitale che è esploso, è un po' complice la pandemia, forse è anche il naturale andare a telecose, pensi che in qualche modo possa ridurre l'appetibilità dell'attività commerciale su strada e quindi di riflesso rendere meno appetibili gli immobili commerciali? In realtà è un paradosso, ma la può avvalorare, perché, riprendiamo qualche numero, in realtà molti non sanno che ancora oggi l'incidenza del fatturato, del commercio e dei servizi online in Italia non raggiunge l'11% del totale ed è già in piedi da 20 anni, quindi è chiaro che è un fenomeno inarrestabile che in qualche modo continuerà a prendere fette di mercato, ma il negozio fisico ha a che fare con la tridimensionalità, noi siamo esseri tridimensionali, perciò in realtà ci sarà sempre uno spazio importante per chi vuole fare impresa fisica, anzi in realtà il futuro non è più nemmeno tanto distinguere un canale o l'altro, si parla già adesso di strategia omnicanale, perché chi vuole fare oggi impresa su strada non può prescindere né da uno né dall'altro. Con un'ulteriore particolarità, chi fa web, chi fa commercio elettronico già da qualche anno invece sta cercando di diventare negozio fisico, quindi dal web finiscono sulla strada e quindi chi ha in questo momento un vantaggio competitivo ce l'ha chi l'impresa su strada in qualche modo già la vive, già la sente più sua e già la fa. Certo, è vero, riflettevo proprio leggendo pochi giorni fa che per esempio a Manhattan stanno affittando tantissimi uffici alle società che si occupano di criptovalute, quindi proprio società digitali al 100% però hanno bisogno in ogni caso diciamo di una presenza fisica, quindi sì, sì, il discorso che tu fai assolutamente ha senso, mi trova concordo e quindi qual è la proposta di Area C1 per gli agenti immobiliari e come fanno a contattarli? Area C1 parte da una mission che è quella di contribuire al rinascimento del commercio su strada ma vuole allo stesso tempo formare degli agenti immobiliari dandogli una vera e propria linea di business. Quindi all'interno di quello che a me oggi piace chiamarlo uno scrigno di strumenti che possono essere anche così golosi, noi abbiamo creato un'accademia di tutto rispetto e anche in quel caso è forse la prima in Italia con un team, una squadra di docenti di riconosciuto livello nazionale, quindi accademia formativa, un software gestionale con MLS customizzato e vestito su misura per il nostro settore, altro unicum perché tutti i gestionali sono un po' orientati nel settore residenziale, un valutatore, cioè siamo i primi a mettere sul mercato un software di valutazione con un nostro algoritmo proprietario per cercare di identificare al meglio il prezzo di qualsiasi locale commerciale in Italia lasciando però l'ultimo miglio della valutazione, altrimenti non saremmo anche fisici, alla gente immobiliare che opportunamente formato da noi riesce a dare l'ultima parola su quello che è il valore di un negozio, un database di contratti, scritture e modelli che copra tutta la gamma di situazioni che possano capitare in una locazione commerciale, in una cessione d'azienda eccetera eccetera, fino ad arrivare ad un sistema di ingaggio piuttosto innovativo che permetta anche all'abbonato della nostra piattaforma di acquisire nuovi clienti, quindi tutto in un un unico luogo, abbiamo cercato di far convergere tutti questi servizi in un posto dove se vuoi crearti una linea di business alternativa o complementare perché non si tratta solo di abbandonare quello che è il tuo mercato di riferimento, la trovano. Ci possono trovare i nostri colleghi su internet, abbiamo il nostro sito web che è www.areac1.it, siamo presenti sui principali social network, quindi LinkedIn, Instagram e Facebook, sempre con il nome Aria C1, l'altro mondo dell'immobiliare, se volessero comunque chiedere informazioni supplementari possono scriverci a infochiocciolaareac1.it, peraltro c'è un contenuto gratuito che abbiamo redatto insieme che spiega ancora meglio nel dettaglio perché è utile, opportuno è importante e può essere fruttuoso puntare al mondo degli immobili commerciali. Bene Armando, insomma noi seguiremo con grande attenzione a questo percorso, ti facciamo un grande in bocca al lupo a te e gli altri founder, ovviamente hai comunque tutto ciò che è nuovo e stimolante, apre opportunità, finestre, dobbiamo restare curiosi e questa è sicuramente un'attività, un'iniziativa che merita di essere seguito. Quindi in bocca al lupo ti rivolgo qui sullo sgabello, fra qualche mese, così ci racconti, i vari accadimenti. Volentieri, grazie Gerardo, ringrazio di nuovo anche i miei soci che mi hanno accompagnato comunque in questo progetto che sta solo per partire, quindi ne vedremo delle belle, ma grazie ancora di nuovo anche a te Gerardo dell'opportunità. Grazie a te. Grazie a tutti. Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare, puoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com. A prossimo video. Ciao.